bubburur oh guarda la pasta diciamo Arielle oh che è meglio allora ma quindi ti sei nel balcare la sera c'era una boggia di gente da farti male per la polsa non la tuoi lamentare era una gola gelata e infedibile e stava difficile trovare una piena era piena di gente quale sei andato? È presente dopo Piazza Inferno, gira a sinistra, c'è la gelateria al Purgatorio Ah, sì, la quantità di gente c'era in effabile Oh, ma che ne dici se ci andiamo a ventilare un po' che c'è un caldo Ti porto io, c'ho il mezzo lì Vai 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 L'ho comprato a nuovo ora, ma l'è bellino E la scuola Vai 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 Stai indo qua lì Ok Andiamo amore Andiamo